un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale ieri alla 5 field cup era giorno di riposo e mi sono riposato anch'io ma oggi ci rimettiamo subito in pari con una partita molto molto particolare il giovane americano jeffrey shong secondo me uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale contro il fortissimo numero 2 del mondo fabiano caruana che dopo quattro turni si trova al comando del torneo partiamo jeffrey shong di bianco apre la partita con cavallo in f3 si parte quindi con l'apertura reti caruana risponde al centro con g5 g3 si apre il fianchetto c5 alfiere in g2 e arriva e 6 arrocco corto per il bianco cavallo in f6 guardate questo è il primo pezzo sviluppato da caruana spinta al centro in d4 ora attenzione il nero deve fare molta attenzione perché con cavallo in c6 d4 si entra in una linea favorevole al bianco della catalana quindi caruana cambia al centro c per d4 il cavallo ricattura spinta al centro in e5 cavallo sotto attacco si deve spostare si porta in b3 in questa posizione caruana invece di continuare a sviluppare gioca a 5 questa è una mossa molto ambiziosa naturalmente con l'idea di continuare a infastire il cavallo spingendo anche in a4 molto ambiziosa secondo me anche molto pericolosa anche se il nero ha un ottimo score in questa variante si sta tralasciando forse un po troppo lo sviluppo allora alfiere in g5 inchioda il cavallo attenzione che finisce sotto attacco il pedone arriva a 4 l'intermedia che attacca il pezzo cavallo indietro in c1 e qui bisogna proteggere il pedone alfiere in e6 fermiamoci un attimo non è mai stato giocato ma in questa posizione il bianco può cambiare con profitto l'alfiere sul cavallo sciupando poi questa struttura pedonale al nero e poi dopo con e3 cavallo in c3 probabilmente il bianco ha un gioco anche più semplice del nero invece shong gioca un'altra novità un po' meno convincente spinge subito in e4 e questa spinta permette a caruana che è indietro di sviluppo di chiudere la posizione con d4 e con profitto allora arriva anche f4 attenzione c'è il pedone sotto attacco e dopo il pedone andrebbe ad attaccare un cavallo inchiodato sulla donna quindi alfiere in e7 toglie questa inchiodatura arriva il cavallo in d3 nuovo attacco sul pedone e qui cavallo in c6 a proteggerlo ritorniamo indietro della mossa perché in questa posizione invece cavallo in g4 è l'idea migliore andiamola velocemente a vedere come mai è l'idea migliore perché vedete il nero ha due pedoni centrali sulle case scure con cavallo in g4 alla fine si protegge anche il pedone dopo si riattaccherà ma il nero riesce strategicamente a prendere un piccolo vantaggio perché va a cambiare il suo alfiere per adesso cattivo con un buon alfiere del bianco ritorniamo a noi invece caruana gioca cavallo in c6 alfiere in f3 come mai non ha catturato shong proprio in previsione ritorniamo indietro proprio in previsione di questa cavallo in g4 che addirittura alla fine si riprende anche il pedone ritorniamo a noi quindi alfiere in f3 il cavallo torna in d7 ecco l'idea di caruana alfiere per alfiere il nero ricattura secondo me strategicamente come dicevamo prima c'è un piccolo vantaggio per il nero c'è anche un problema però guardate che succede dopo cavallo in d2 giocato da shong il nero vorrebbe arroccare ma non può arroccare perché se si arrocca si perde la partita f5 vedete questo alfiere completamente intrappolato il cavallo gli va a togliere questa casa in c4 quindi cosa fa caruana b5 nuova protezione su c4 ma adesso arriva b3 solito problema bisogna trovare non si può di nuovo arroccare bisogna trovare una via di uscita questo alfiere qual è la via di uscita migliore la via di uscita migliore cavallo in c5 caruana invece giocherà f6 certo adesso c'è questa via di uscita non piace tanto però questo questo indebolimento della struttura ritorniamo indietro di una mossa è vero che con cavallo in c5 si può perdere il pedone ma guardate che succede cavallo per pedone cavallo per cavallo il pedone ricattura guardate che brutta struttura finalmente il nero arrocca ma qui ci può essere d3 fastidiosissima la torre si porta in d8 quindi sulla colonna d dove c'è anche la donna con sicuro vantaggio per il nero ritorniamo a noi f6 comunque non è un gravissimo errore intanto si è liberato l'alfiere alfiere in h5 con scacco arriva anche g6 f5 per sciupare questo arrocco del nero la posizione si inizia a complicare l'alfiere allora torna indietro in f7 f per g6 il pedone a caricatura alfiere sotto attacco ritorna in g4 allora attenzione perché qui c'è la donna sovraccarica e qui ci potrebbe essere tranquillamente alfiere per cavallo quindi o il re ricattura oppure si perde il pedone e di nuovo non si permette al nero di arroccare perché arroccando poi veramente non c'è più il secondo controllo sul cavallo allora alfiere in e6 forse era anzi senza forse era meglio proteggere il cavallo quindi dare un nuovo una nuova protezione al cavallo per poi tentare di arroccare perché adesso vengano cambiati anche gli alfieri campo chiaro secondo me è stato un peccato perdere questo alfiere la donna ricattura n6 il cavallo si muove in f3 arriva g5 si poteva anche arroccare certo in posizione complicata per entrambi questa g5 non convince più di tanto arriva donne n2 shong non solo ha completato lo sviluppo ma a raggi x questa donna sta guardando il pedone non difeso in b5 allora forse donna in d6 è una delle migliori e invece il cavallo si porta in d8 ma portandosi in d8 si perde il controllo della casa in b4 allora il cavallo può saltare in b4 guardate brutto c'è sia il pedone sotto attacco c'è anche l'idea e poi di portare il cavallo su questo fortissimo avamposto in d5 e quindi sicuramente jeffrey shong ha trovato un minimo di iniziativa torre in b8 protegge il pedone cavallo in d5 attenti al doppio di cavallo perché si perde la donna quindi caruana arrocca arriva però h4 h4 è forte perché ora si sta giocando per aprire il lato di re e quindi caruana porta il cavallo in f7 nuova protezione ma intanto il bianco apre h per g5 il pedone f ricattura torre in f2 l'idea chiara è quella di portare la torre sulla colonna h controllarla totalmente quindi situazione molto pericolosa caruana attacca il cavallo su avamposto cavallo in b6 siamo arrivati al nostro quizone perché il bianco ha a disposizione diverse buone soluzioni ma una di queste è un'idea di attacco stupenda quindi mettete pure in pausa se volete ed a voi la parola ritorniamo subito a noi anche il raddoppio delle torri è buono viceversa questo cambio dei cavalli favorisce soltanto il nero che probabilmente equalizza la partita ma c'è un'idea fantastica che è cavallo in h4 guardate un po' che succede libera la colonna f il cavallo non si può catturare andiamo a vedere che succede dopo g per h4 torre in f6 protetta dal cavallo attacca la donna la fa spostare ma qui c'è un controllo enorme c'è un attacco fortissimo donna in d7 torre in g6 con scacco re in h8 arriva la donna con scacco situazione terribile cavallo in h6 torre per cavallo con scacco re in g8 donna in g6 con scacco donna in g7 e qui c'è il matto di cavallo cavallo in e7 scacco matto allora ritorniamo a questa fortissima idea che poi il cavallo non è che vuole rimanere fermo si vuole portare sull'altro avamposto scusate sull'altro avamposto sempre formato dal pedone centrale quindi cavallo in h6 una delle idee migliori che rende almeno un po' di controllo alla torre nuovo controllo anche su f5 raddoppio delle torri cavallo per cavallo il pedone ricattura non si può prendere il pedone perché se no la donna entra con successo in una posizione fortissima quindi donna in g4 si cerca il cambio donne cavallo in f5 e qui è rimasta la donna sotto attacco perché attenzione perché qui quindi il cambio donne è praticamente forzato altrimenti qui la cattura vince la donna quindi donna per donna ma qui intanto si prende il cavallo cavallo cattura in h6 il re si avvicina per riprendersi il pezzo torre cattura il re riprende il pezzo torre cattura in e5 ma troppo forte la posizione del bianco in questo finale troppo attaccabili tutti i suoi pedoni quindi bianco che vincerà questo finale ritorniamo a noi e invece in questa posizione shong gioca donna cattura in b5 quindi nuova protezione del cavallo ma il cavallo viene catturato cavallo per cavallo la donna ricattura donna per donna il pedone ricattura in d5 per adesso il bianco ha un pedone di vantaggio per il computer c'è totale parità ma il bianco in realtà sta meglio perché è più facile da giocare a per b3 il pedone a ricattura naturalmente non fa non l'altro si fa passare se no il pedone in d4 arriva d3 c per d3 la torre cattura e qui non si può andare a difendere perché vedete arriverà sicuramente 4 quindi bisogna essere attivi in questo finale torre in a6 mossa migliore giocata da jeffrey siong siamo all'ultimo momento critico della partita perché i giocatori oltretutto hanno poco tempo sull'orologio caruana solo 4 minuti jeffrey siong un po' di più ma 7 minuti la mossa che tiene in gioco il nero è la cattura di questo pedone in d3 ma caruana non la giocherà come mai andiamolo a vedere subito dopo torre cattura in d3 come mai era così buona questa mossa torre in a6 perché vedete che c'è uno scacco forte torre in g6 con scacco fa paura caruana userà tutti i suoi 4 minuti per calcolare queste linee risultanti ma poi dopo non troverà questa cattura come mai perché ora arriva torre in g6 con scacco ora attenzione perché torre in h8 prende matto perché c'è la torre che si sposta sulla colonna h la seconda torre cavallo in h6 la torre cattura scacco matto allora dopo torre in g6 con scacco bisogna giocare re in h7 torre in f6 guardate brutto viene verrà inchiodato poi a raggi x il cavallo bisogna trovare 4 cavallo cattura con scacco il cavallo ricattura torre per torre ma e qui il nero si salva anche lui con uno scacco di cavallo re in g2 cavallo cattura la torre si riprende la qualità il re cattura torre cattura in d5 con totale parità ritorniamo a noi e invece cosa giocherà caruana caruana in debito di tempo gioca torre in d8 e questa mossa perde la partita perde la partita perché arriva torre in g6 con scacco re in h7 torre in f6 in questa posizione mossa 36 non si è capito se caruana ha abbandonato qui c'è un tatticismo sicuramente oppure ha perso per il tempo prima di poter riuscire a giocare la mossa che è apparsa sul tabellone che è torre cattura in d3 che naturalmente perde il cavallo ma il problema sarebbe stato il cavallo in ogni modo ritorniamo indietro quindi caruana perde probabilmente per il tempo in questa posizione qui che succede? qui se si prova a difendere il cavallo con il re andiamo a vedere che succede dopo re in g7 ma anche re in g8 sarebbe stata la stessa cosa guardate il tatticismo torre per cavallo attira il re sulla colonna dell'altra torre cavallo in d4 con scacco vince il pezzo ritorniamo quindi indietro a torre in f6 andiamo a vedere se è possibile difendere il cavallo di torre non è possibile neanche questo perché dopo torre in d7 ma anche torre in f8 sarebbe stato lo stesso torre per torre con scacco la torre ricattura cioè lo scacco di cavallo secondo attacco alla torre che vince il pezzo quindi una partita fuori dagli schemi principali che siamo abituati a vedere giocati da questi campioni e fuori da questi schemi anche i super campioni si possono trovare in difficoltà perché ricordiamoci che gli scacchi sono difficili per tutti spero che la partita vi sia piaciuta se vi è piaciuta non scordate di like non scordate soprattutto di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo domani con un nuovo video a presto grazie a tutti